Il mercato di Legnano non è più contingentato, gli unici interventi che effettua la polizia locale e la protezione civile è evitare assembramenti davanti alle bancarelle, per il resto non ci sono più controlli nel controllo della febbre, nel controllo delle persone che accedono, non siamo a 100 bancarelle, mancano soprattutto quelle degli estracomunitari, mentre come vedete non c'è particolare assembramento, la polizia e la protezione civile indicano che i legnanesi sono assolutamente corretti nel frequentare le bancarelle qui al mercato di Legnano, che ripeto è aperto, non ci sono più limiti di ingressi o controlli della febbre. alle 11.30 si calcola che sono più di 2000 le persone che sono già entrate qui al mercato di Legnano dove ci sono diversi spazi vuoti, lo vedete là in fondo. Questo è oggi sabato il mercato di Legnano